Io mi sono occupato del mondo di Comunione e Liberazione per motivi professionali la prima volta tre o quattro anni fa. A quel tempo, sui giornali laici, l'atteggiamento verso Comunione e Liberazione era un atteggiamento di alterigia, di sufficienza, venivano presentati come bigotti. Io andai lì a Milano, ne interrogai molti, eccetera, eccetera, mi parvero dei ragazzi estremamente simpatici, vivi, veri, genuini, con la loro fede e le loro passioni che sono diverse dalle mie. Mi colpì uno di loro, era uno che studiava, mi pare, a Perugia, uno studente universitario, era fidanzato da sei anni e mi disse che si stava per sposare. Gli ho chiesto, in questi sei anni hai mai fatto l'amore con la tua fidanzata? Lui mi disse di no e che era fondamentale dal punto di vista della sua fede non aver fatto l'amore per sei anni con una ragazza che amava enormemente, che stava per sposare. Ecco, questa è una cosa per me incomprensibile. Rispondo che capisco fino in fondo le difficoltà a capire di chi non ha la fede, le difficoltà a capire questo atteggiamento che può apparire puramente di rinuncia. Dico invece che secondo la prospettiva della fede, la castità nel rapporto prematrimoniale, poi anche la permanenza della castità, sia pure sotto altre forme, nel rapporto matrimoniale, è un arricchimento del rapporto stesso. Tu sei fidanzato? No. Hai intenzione di sposarti? Neanche. Hai fatto voto di castità? Sì. Sì.